Da Amedea Macbeth, da Diabolica Walter White di Breaking Bad, se pensiamo agli antieroi per eccellenza nell'arte, che sia letteratura, fumetti, teatro, cinema, è difficile non ammettere che almeno qualche volta abbiamo fatto il tifo per loro o almeno simpatizzato con i loro intenti e sentimenti, nonostante li riconoscessimo come personaggi assolutamente riprovevoli dal punto di vista morale. Questo genere di esperienza estetica viene approfondita da Stefano Ercolino, professore all'Università Caposcari di Venezia e Massimo Fusillo dell'Università degli Studi dell'Aquila, in un libro dal titolo Empatia Negativa, pubblicato quest'anno da Bonpiani. Buongiorno, professore Ercolino e professor Fusillo, grazie di essere in collegamento con noi. Buongiorno. Dunque, professore Ercolino, nel libro ripercorrete diversi significati che ha assunto il termine empatia e anche la distinzione tra empatia negativa e positiva nelle principali teorie filosofiche e neuroscientifiche che hanno analizzato sistematicamente questa nozione. Ci svela allora brevemente a quale conclusione siete giunti, cioè in cosa consiste secondo la vostra analisi l'empatia negativa, ovviamente nell'esperienza estetica e quindi nel nostro rapporto con l'arte. Sì, per giungere alla definizione che noi proponiamo di empatia negativa, in realtà c'è stato tutto un percorso dietro, cioè siamo partiti da quello che è il significato che oggi per le neuroscienze, per esempio, ha l'espressione empatia positiva e l'espressione empatia negativa e abbiamo presto notato in realtà che questi termini, queste espressioni che avevano utilizzate semplicemente come dei concetti operativi in situazioni empiriche, cioè di esperimenti, se andavamo indietro fino alle origini dei concetti, cioè tra fine 800 e inizio 900, le cose diventavano molto più complesse, soprattutto nel pensiero di quello che è considerato un po' il padre fondatore del dibattito contemporaneo sull'empatia sia in filosofia che in psicologia, cioè Theodor Lips, che fa una differenza non tanto tra empatia positiva e negativa, ma tra empatia e empatia negativa. Cioè l'empatia negativa, l'empatia diciamo semplice è quella che per Lips è la vera autentica forma di empatia che viene, il suo punto di vista viene anche definito da un punto di vista fusionale, cioè nel senso che secondo questa forma di empatia, nel momento in cui noi empatizziamo, risuoniamo, ci sintonizziamo con un altro individuo, un altro oggetto, ci fondiamo con esso. Questo punto di vista sull'empatia è stato criticato molto presto già in ambito fenomenologico, dimenticando però che per Lips esisteva anche un'altra cosa che si chiamava empatia negativa, che era una forma molto particolare di empatia che implica forme di distacco, di repulsione nei confronti dell'oggetto con cui io e del soggetto che si sta empatizzando. Per Lips l'empatia negativa non era possibile nella sfera estetica, io e Massimo abbiamo pensato che invece lo è e come, e ci abbiamo scritto un libro per cercare di dimostrarlo, ma appunto partendo da questa idea originaria di Lips, poi espandendola e arrivando a proporre una definizione di empatia negativa che noi pensiamo come un'esperienza estetica tensiva, ecco potremmo dire, che ci porta verso, appunto, ci avvicina all'oggetto e allo stesso tempo ci spinge a distanziarcene, perché l'empatizzazione ci pone problemi soprattutto di ordine morale, potremmo dire così. Sì, sì, io vorrei solo aggiungere che poi noi preferiamo non usare la parola antieroe, perché la parola antieroe ha quella connotazione legata soprattutto poi ai personaggi del Novecento, a Zeno, a Svevo, a Musile, insomma, a tutta un'idea della soggettività appunto antieroica, fatta di incertezze, indecisioni, oscillazioni. Invece i personaggi di cui ci occupiamo sono personaggi forti, insomma, hanno un eroismo proprio, un eroismo negativo, e l'idea che uno possa sintonizzarsi con personaggi che condanna da un punto di vista morale, con cui nella vita quotidiana non andrebbe nemmeno a prendere un caffè, è secondo me quello che rende poi l'esperienza estetica qualcosa di insostituibile, qualcosa che ci permette di sondare anche zone della psiche che sono appunto in contrasto con la nostra idea di bene, di positività, la nostra idea di morale. Sì, poi l'empatia negativa, come ricordate nel libro, è un fenomeno complesso e variegato, che non ha un'unica spiegazione, però senza spoilerare troppo. Mi pare di capire che alcuni elementi fondamentali che caratterizzano questa esperienza siano la distanza tra noi e l'opera d'arte e la catarsi. Possiamo spiegare, professor Fusillo, questi due elementi in particolare? Sì, la distanza è questo elemento che poi viene chiamato anche straniamento, non è la stessa cosa, ma insomma hanno molto in comune, insomma, è un elemento che c'è sempre nell'esperienza estetica, perché noi sappiamo sempre che anche quando ci immergiamo totalmente, immersività sappiamo bene che è una delle parole chiave dell'estetica contemporanea, anche abusata alle volte, ma sicuramente importante, insomma, quando ci immergiamo totalmente in un film, in un romanzo, in una qualsiasi esperienza estetica, però abbiamo sempre una parte di noi che ci ricorda, questa non è la realtà, quella distanza che può essere minima, ma che c'è sempre. Nel caso, per fare un esempio, insomma, nel caso in cui noi assistiamo al Macbeth di Shakespeare e magari appunto riusciamo anche a sintonizzarsi con un ambizioso criminale come Macbeth, soprattutto grazie ai suoi tormenti, alla sua sofferenza e così, però sappiamo sempre che comunque non potremmo mai essere, che non vorremmo mai essere come lui. Questa è la distanza che comunque il fatto che si tratti di un'opera appunto che funziona per leggi diverse, come un'opera appunto immaginaria, ecco, la distanza c'è sempre. La catarsia è un concetto su cui, come si sa, sono stati scritti i famosi, insomma, fiumi d'inchiostro, un concetto aristotelico che però Aristotele definisce poco, per cui appunto si discute ancora tanto, ma noi crediamo che possa aiutarci a far capire l'empatia negativa, cioè questa idea appunto di scarica di energia distruttiva, cioè noi tutti abbiamo a che fare appunto con un'energia distruttiva e autodistruttiva, e qui appunto c'è anche il tema del masochismo, e l'esperienza estetica, estetica appunto non sempre legata poi a personaggi negativi, parliamo di esperienza estetica anche quando vediamo appunto un'installazione di arte, ecco, insomma, l'essenza estetica serve a, soprattutto, a scaricare, a purificare, che è uno dei tanti sensi che viene attribuato al termine catarsi, questa energia distruttiva e autodistruttiva. E da questo punto di vista per noi è stata molto importante la psicanalisi freudiana, che abbiamo quasi interpretato come un naturale complemento e continuazione del pensiero, non incompleto, ma appunto chissà qual era appunto quello di Aristotele. Quindi noi abbiamo piegato il contesto di catarsi a questo, cioè all'interno della nostra teoria assume questo ruolo fondamentale, l'esperienza estetica dell'empatia negativa ci permette appunto di liberarci di quelle pulsioni più oscure e più inquietanti che sappiamo molto agitarsi dentro di noi, però appunto, come ricordava Massimo, in un ambiente sicuro, in un ambiente protetto, che è quello detracciato dal perimetro dell'esperienza estetica. Ecco, quindi riprendendo il discorso della distanza e di questo effetto protettivo dell'esperienza estetica, vorrei concentrarmi su una sezione del libro che personalmente mi ha colpito particolarmente, ed è quella in cui è approfondita il tema della performance art, quindi Marina Abramovic, Roberto Puoghi, Herman Nietzsche, ma anche altri nomi, raccontate performance dall'effetto allucinante e perturbante, occasioni in cui l'arte diventa addirittura una forma di autoelesionismo. Ecco, in questi casi in cui l'artista non interpreta la sofferenza, ma prova sofferenza e dolore fisico, non viene un po' a mancare quella distanza tra arte e vita che ci protegge, ci garantisce il godimento del tragico? Che dimensioni assume l'empatia negativa in questi casi? Chiederei in questo caso al professor Fusillo. Sì, la performance art nasce, cioè si sviluppa particolarmente, nasce prima, ma si sviluppa particolarmente negli anni settanta, in quel clima appunto utopico di sperimentazione radicale. La radicalità consisteva anche appunto un po' nell'eliminare i confini fra arte e vita, cioè quando si pensa appunto a performance che potevano durare anche 4-5 giorni, come quelle di Herman Nietzsche nel castello di Prinzdorf, o spettacoli che duravano 24 ore. Ecco, questa dilatazione del tempo e questo annullamento della cornice indovamente faceva parte della sperimentazione. Però per quanto queste esperienze fossero radicali, comunque andare nel castello di Prinzdorf o andare a vedere uno spettacolo è sempre creare una cornice. Insomma, per quanto queste esperienze volessero negare la cornice, esiste sempre una forma di distanza. Ecco, anche la stessa Marina Abramovic, che io ricordo questa, cioè nella parte della performance di cui mi sono occupato, anche se poi noi abbiamo sempre discusso tutto insieme in maniera veramente molto bella, devo dire molto intensa. Per ecco, insomma, citiamo insomma nel capitolo introduttivo alla performance poi il che sta di sé su Nietzsche. Citiamo appunto Marina Abramovic, che poi ormai è la figura più famosa insomma della performance art. Quando lei fece a Napoli questa famosa performance su cui per varie ore esponeva il suo corpo agli spettatori avendo messo alcuni oggetti fra cui una pistola carica, ecco, insomma, quando uno spettatore prese questa pistola carica, poi ci fu qualcuno ovviamente che lo fermò, insomma, c'è sempre un pubblico insomma che mantiene il controllo emotivo, insomma, anche se ovviamente l'idea di quella performance era di portare agli estremi il rapporto fra performer e pubblico e soprattutto rinunciare a una cosa che invece in genere distingue poi il teatro dalla performance, è rinunciare alla differenza fra personaggio e performance. Cioè Marina Abramovic in quel momento era Marina Abramovic, come sempre i performance, non era un personaggio. E questo ovviamente, ed era Marina Abramovic che metteva anche a rischio la propria esistenza. Sì, abbiamo parlato appunto di personaggi e interpretazioni, ma va anche ricordato che come tra l'altro ovviamente spiegato nel libro, l'empatia negativa non deve essere per forza diretta a un essere umano reale o finzionale che sia, ma possiamo anche sviluppare questo sentimento per un autore, un tipo di linguaggio, di sensazione evocata. Voi in questo caso parlate della steemung caratteristica dell'opera, quindi di quel colore, di quella tonalità emotiva che trasmette l'opera, giusto? Ecco, che contorni assume, professor Ercolino, l'empatia negativa in questo caso? Sì, questa è stata una tappa molto importante nel nostro percorso, perché quando avevamo cominciato a pensare a questo libro noi pensavamo fondamentalmente a empatia negativa come qualcosa che poteva derivare dall'identificazione con dei personaggi negativi, ma in realtà andando poi a scavare nella letteratura filosofica sull'empatia dei primi del Novecento, abbiamo scoperto che in realtà qualcosa che qualsiasi storico dell'arte sa da sempre, per esempio, che le teorie dell'empatia nascono in ambito o nell'ambito delle arti figurative, soprattutto, e poi da lì si irradiano verso anche altri ambiti che possono essere quelli letterari e poi successivamente altri, insomma, regali ad a forme d'arte narrativa. Quindi sostanzialmente il problema di come si faccia a empatizzare con una figura dipinta in un quadro oppure con un'installazione oppure con un edificio o una composizione musicale, abbiamo provato a risolverli attraverso il concetto di Stimmungs and Fühlung, che sarebbe l'empatia di stati d'animo o empatia di atmosfera, come lei sa, il termine Stimmung è molto difficile da tradurre in italiano e può contenere appunto diversi significati, significati anche molto diversi, stato d'animo, ma anche atmosfera. Infatti nel dibattito filosofico contemporaneo Stimmung generalmente viene inteso in questo secondo senso, cioè come atmosfera. Per fare un esempio molto molto semplice, tutti avranno visto, non so, Thelma e Louise, per esempio. Quanto è importante in realtà se ci pensiamo il paesaggio sublime del deserto dal quale è incorriciata la loro fuga per consentirci e alimentare e appunto aumentare il grado della nostra identificazione con loro oppure leggendo un romanzo di Thomas Bernat, quanto è importante l'uso claustrofobico della sintassi per determinare una certa atmosfera dell'opera con cui il lettore riesce a sintonizzarsi in maniera particolare, cioè non soltanto identificazione con i personaggi, ma anche attrazione ed empatia verso atmosfere. Questo è stato, credo, un altro importante punto teorico che abbiamo cercato di sviluppare nel libro a lungo. Sì, Stimmung è una parola veramente bellissima che mi ricorda Stokhausen che ha scritto una bellissima opera con questo termine che è indubbiamente musicale. Però per noi è diventato per noi, ma non solo per noi ovviamente, è diventato qualcosa di più che musicale, tutto qualcosa che riguarda tutte le arti non narrative di cui ci siamo occupati. Della musica strumentale ci siamo occupati poco per motivi anche tecnici, diciamo, siamo occupati più dell'opera lirica in cui appunto la musica diventa poi anche narrativa. Però, insomma, questo concetto vale per la musica strumentale, vale anche appunto per un'installazione. Cioè, Kiefer, le sette torri bellissime che sono a Langar Bicocca, lì indubbiamente non ci sono personaggi, ci sono queste rovine, queste torri in rovina ed è un Ashtimog che sicuramente ha a che fare con le rovine della storia, con l'energia distruttiva, con la Shoah, con la negatività, insomma, però nello stesso tempo è un Ashtimog così bella, così sublime che questo è anche il paradosso dell'esperienza estetica, cioè io provo piacere dentro però qualcosa che mi ricorda la tragedia più grande della storia come la Shoah, insomma, e quindi è un termine, mi piace molto l'idea di atmosfera che è una cosa su cui Stefano continuerà forse a lavorare perché ha un'attitudine filosofica molto forte quindi la filosofia dell'atmosfera, non lo so, se ci lavoro anche io magari vedremo, però insomma è un termine veramente bello. E infine come ultima domanda volevo chiedervi voi nel libro a un certo punto verso la fine dite che l'empatia negativa non deve essere per forza un'adesione morale con il personaggio ma può essere anche una specie di un allineamento con i suoi sentimenti, con i suoi obiettivi. Ecco, possiamo spiegare per concludere che cosa significa questo? Cioè, non significa per forza tifare per i cattivi se vogliamo chiamarli così, giusto professor Colino? Sì, certo, perché in realtà questo è un po' un fraintendimento che spesso può causare sì, potrebbe suscitare il concetto di empatia negativa. Infatti, l'empatia negativa non parla poi fondamentalmente di condividere il punto di vista del carnefice, possiamo dire così in un romanzo come Le Benevole di Littella. Si parla appunto di allineamento, cioè nel senso l'empatia arriva fino a quello, cioè ci fa vedere le cose appunto come dice il sottotitolo del libro dal punto di vista del male, ma poi quello che accade dopo questo è molto soggettivo, sta a noi ed è assolutamente libero, cioè può portare effettivamente a una presa di posizione critica nei confronti del personaggio oppure a una presa di posizione come dire possibilista che rimane sospesa tra attrazione e repulsione, addirittura potrebbe in alcuni casi patologici purtroppo innescare forme di imitazione come purtroppo è accaduto negli Stati Uniti nel caso di serial killer che si sono ispirati alla serie televisiva Dexter purtroppo nella realtà ma non significa assolutamente sposare il punto di vista del cattivo anzi significa aumentare la nostra consapevolezza della complessità appunto delle scelte e della complessità appunto della dimensione morale sì io credo che questo sia veramente il punto più importante insomma perché indovamente sì ci sono casi patologici e spesso si è parlato a livello giornalistico se appunto la rappresentazione della violenza può portare a fenomeni di meditismo io penso di no perché appunto sono casi patologici e che sono patologici già in partenza non è aver visto Dexter che poi porta a fare il serie per cui però indovamente siamo a che fare abbiamo a che fare in questo caso di una questione delicatissima sicuramente però sono d'accordo appunto allineamento non significa tifare non significa sposare una visita del mondo ecco facciamo un esempio la serie Gomorra che appunto è stato detto rispetto al romanzo è più empatica però è una serie in cui lo spettatore viene immerso appunto viene introdotto in un mondo completamente diverso e per un momento mette fra parentesi la propria visione morale ma proprio anche il proprio stile di vita cioè si trova in un universo in cui è tutto il male cioè non è una questione di fare per il bene o di fare per il male stai per un bel po' di tempo sei trasposto in un mondo illegale dominato dal male a quel punto però poi in quel mondo incominci a entrarci incominci a empatizzare per personaggi che hanno appunto uno spessore maggiore comunque non sarebbero mai personaggi con cui appunto nemmeno prenderesti un caffè però in quel momento stai in quell'universo e empatizzi con alcuni che appunto sono personaggi che è lo spessore lo spessore la complessità ecco queste sono cose che creano empatia restando poi una condanna morale comunque molto forte per quell'universo illegale insomma un po' di tempo un po' di tempo un po' di tempo è un po' di tempo